Coronavirus, il bollettino della task force regionale, un positivo a potenza. A Matera è iniziato l'allestimento dell'ospedale da campo donato dal Qatar. Il Consiglio regionale torna in aula e il governatore Bardi ripotenziare la sanità. Croce Rossa ha i test sierologici nel prossimo weekend anche in Basilicata. Su TRM Network 4 maggio a San Gerardo 2020. Ben ritrovati in diretta per un nuovo appuntamento con l'informazione su TRM e tutte le notizie lucane di oggi, subito dopo una breve pausa. Restate con noi. Coronavirus in Basilicata, c'è un nuovo positivo, una persona di potenza, secondo l'ultimo bollettino della task force. Un nuovo positivo a potenza su 537 tamponi processati nelle ultime ore in Basilicata e l'aggiornamento che arriva dalla task force con i casi attualmente attimi in regione che restano 34, come nel giorno precedente, perché bisogna aggiungere l'ultimo caso, ma bisogna sottrarre un caso che il 16 maggio scorso era stato erroneamente attribuito a Forenza. Da una verifica effettuata sui contagi in Basilicata è invece emerso che quello di Forenza è un paziente residente in Lombardia e attualmente in isolamento in Basilicata. 336 guariti, mentre i lucani in isolamento domiciliare, sono 27. Ci sono poi due pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata, dove si trovano in isolamento domiciliare, e altri quattro pazienti, uno residente a Torino e tre nei comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in terra lucana. Restano vuote le terapie intensive e calano ancora ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera. In totale sono sette pazienti, al San Carlo tre in malattie infettive, due in preomologia, al Madonna delle Grazie due in malattie infettive. Dopo Potenza sono cominciati oggi a Matera i lavori di realizzazione dell'ospedale donato dal Qatar. Dopo Potenza anche a Matera prende forma l'ospedale mobile donato dal Qatar alla Basilicata e al Veneto, nei pressi dell'ospedale Madonna delle Grazie sono cominciati i lavori di realizzazione della struttura modulare, con ingegneri tecnici, protezione civile, esercito e volontari. Il dono dell'Emirato Arabo di alto livello tecnologico si spera che non debba accogliere nessuno. Vorrà dire che l'emergenza Covid-19 non è mai ritornata e che gli ospedali lucani sono bastati ad accogliere e a curare tutti i pazienti. La struttura catariota è a disposizione della Basilicata per le urgenze, che sia per il coronavirus o per qualsiasi altra emergenza. Disporre nei pressi degli ospedali maggiori di aree dedicate consente in qualche maniera di alleggerire la pressione sui reparti strutturati in maniera ordinaria e viceversa per l'ospedale da campo avere una garanzia in termini di immediata disponibilità di reparti in grado di fornire prestazioni sanitarie più complesse. L'area di proprietà dell'azienda sanitaria di Matera è stata già urbanizzata. Quali saranno i prossimi step del cronoprogramma dei lavori? È da sottolineare che l'area urbanizzata rimarrà permanentemente a disposizione per eventuali futuri rimontaggi delle stesse strutture. Pertanto non è un'operazione finalizzata soltanto all'attualità, ma è un'attività preventiva anche per situazioni emergenziali di altro tipo, per cui è sicuramente un utile investimento per incrementare la capacità di risposta del sistema di protezione civile regionale. E terminata questa fase di montaggio delle strutture si procederà successivamente all'allestimento interno con pavimenti galleggianti, pareti autoportanti e attrezzature e impianti che saranno in grado poi di assicurare il necessario conforto ai pazienti. Chi è al lavoro da questo oggi a Matera? Oggi a Matera sono pervenuti l'esercito con 25 uomini, più a disposizione abbiamo 5 associazioni di volontariato che stanno facendo scuola presso i militari per poter essere pronti sia al montaggio che allo smontaggio nuovamente di queste strutture. Così come abbiamo fatto a Potenza, questi volontari saranno a supporto per tutti i giorni del montaggio con gli uomini dell'esercito. Per quanto tempo è prevista la conclusione dei lavori? Per quanto riguarda la struttura verranno realizzate e completate entro la giornata di sabato mattina. Come potete vedere lo stato di avanzamento dei lavori è abbastanza avanti, per cui la parte esterna verrà realizzata entro venerdì sera, sabato mattina. Poi attenderemo che arriveranno tutte le altre attrezzature interne già ordinate allo stato del cadar per poi completare il montaggio di tutto. In diversi comuni per un totale di 7.500 lucani il prossimo weekend partiranno i test sierologici. Il comune di Matera avere il maggior numero di persone che saranno contattate dalla Croce Rossa sono 803. Nel prossimo weekend a Matera, a Potenza e in tutti i comuni della Basilicata, individuati dal Ministero della Salute e dall'Istat, saranno effettuati test sierologici su 7.500 lucani. In particolare nella città dei Sassi, che si svolgerà lo screening a un campione più ampio di cittadini, saranno 803 materani a cui sarà effettuato nelle palestre dello stadio 21 settembre il prelievo immunologico per Covid-19. Il test è gratuito e la Croce Rossa, l'associazione che si occupa di contattare i candidati al prelievo, è stata costretta a diramare un comunicato per tranquillizzare la gente. Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06 5510, seguito da altri numeri che identificano la regione, è la Croce Rossa italiana. Non è uno stalker, non è una truffa, ma è un servizio che potete rendere al vostro paese attraverso un piccolo prelievo venoso. Così il presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, in merito alla campagna avviata da lunedì. I volontari stanno lavorando senza sosta per questo servizio importante per la comunità, ha aggiunto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha precisato che questa è un'analisi nazionale su un campione di 150.000 persone scelte dall'Istat, su un campione rappresentativo di tutta la popolazione, che permetterà di capire esattamente cosa è successo in Italia sulla diffusione del nuovo coronavirus. Il campione, infatti, consentirà non solo di raccogliere informazioni sulle diverse aree geografiche del paese, ma anche sulla diffusione dell'epidemia per classi d'età, sesso e attività economica. Andando a individuare quanti italiani hanno sviluppato anticorpi al Covid, non solo sarà possibile capire quanta della popolazione sia oggi almeno ipoteticamente immunizzata, ma anche individuare le strategie sanitari migliori per proteggere le categorie più a rischio di infezione. Il Consiglio regionale Lucano torna in aula. Il Governatore Bardi, ripotenziamo la sanità. La pandemia ha reso evidenti tutte le scelte sbagliate che abbiamo fatto in passato sul sistema ospedaliero. Ora dobbiamo ripotenziare la sanità pubblica, ripensare il numero chiuso all'Università di Medicina e poi l'aver privilegiato nei fatti la sanità del Nord a scapito di quella del Sud ha prodotto, sia pure a fronte di una pandemia inaspettata, i risultati che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Solleva le falle del sistema sanitario il Governatore regionale della Basilicata Bardi, per il quale ora c'è da cambiare rotta sulla sanità. Tema al centro dell'ultimo Consiglio regionale Lucano, tornato in aula dopo le riunioni in videoconferenza, l'Aula, simbolo della democrazia e della responsabilità istituzionale, ha detto il Presidente del Consiglio Cicala. Di ripotenziamento della sanità, ma anche di rilancio economico, attraverso un nuovo piano strategico, ha parlato il Governatore regionale. In questi mesi, ha detto, abbiamo deciso di privilegiare in prima battuta gli ultimi, ma ora la Giunta sta lavorando a un piano strategico e a questo Governo e alla maggioranza che lo sostiene non manca né la visione della società lucana nei quali strumenti concreti bisogna attuare per realizzare i nostri obiettivi. Non è oggi il momento di discutere su come vorremmo costruire il nuovo sistema sanitario regionale, ha detto il Presidente, e troveremo tempi e modi per farlo insieme, ma è chiaro che così non si può andare avanti. È una risposta che dobbiamo dare nei prossimi mesi alla comunità lucana che l'attende da tempo. Privacy e salute, in arrivo l'app Immuni, interviene l'Avvocato Belisario, sentiamo. In inglese queste app si chiamano app di contact tracing, che viene tradotto come tracciamento dei contatti. In realtà è sbagliato, queste app non tracciano contatti, non tracciano i nostri spostamenti, soprattutto l'app che verrà utilizzata in Italia e verrà resa disponibile. È un'app che consiste in un sistema di allerta, cioè serve per dare non un servizio allo Stato o al Governo, ma da un servizio all'utente. L'utente è in condizione di sapere se nei 15 giorni precedenti è venuto a contatto con un soggetto positivo al coronavirus e quindi grazie a questa notifica è in condizione di poter bloccare la catena del contagio e quindi a propria volta di contagiare dei parenti, dei colleghi di lavoro, degli amici. Quindi questo è importante innanzitutto. Cosa fanno queste applicazioni? Non ci tracciano, non ci spiano, anche perché l'Unione Europea ha dato una serie di indicazioni molto importanti e quindi quest'app non utilizza il numero di cellulare, non c'è l'indirizzo di posta elettronica, non c'è il nome e il cognome, ci sarà soltanto l'indicazione di qual è la regione in cui viviamo, ma soltanto per avere un'informazione statistica e questi dati rimarranno sul dispositivo dell'utente. Quindi dobbiamo sapere, la scelta se installare l'applicazione è libera, che però l'applicazione è stata costruita con grandissima attenzione per la privacy, come ci chiedono le norme europee, la Commissione Europea e come è previsto da una norma di legge del nostro ordinamento italiano. Si deciderà a giugno sugli spostamenti tra regioni, mentre si è in attesa dei dati relativi alla curva dei contagi che arriveranno nei prossimi giorni. Il Ministro della Salute e Speranza mette in guardia sulla possibilità di una seconda ondata. Sul tema della scuola invece il CTS si oppone al ritorno in aula per l'ultimo giorno dell'anno. Ora parliamo di cassa integrazione. Secondo l'Inps Basilicata i pagamenti procedono con regolarità. Arrivano finalmente buone notizie per le migliaia di lavoratori e aziende lucane che attendevano il pagamento della cassa integrazione in deroga da parte dell'Inps. L'Istituto ha reso noto attraverso un comunicato che ad oggi sono state autorizzate 4.288 domande per 8.531 lavoratori. 3.020 domande per la provincia di Potenza di cui autorizzate 2.642 e pagati 3.903 lavoratori e 1.691 per la provincia di Matera con 1.549 pratiche autorizzate e 3.720 lavoratori pagati. Superato dunque l'Inps amministrativo che aveva provocato una dilazione nei tempi di lavorazione delle domande da parte dell'ente previdenziale. Messe ormai alle spalle le iniziali difficoltà che si sono registrate in tutta Italia legate a problemi di trasmissione delle stanze sta dunque procedendo con regolarità l'attività di liquidazione della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19. Il punto effettivo sulla situazione l'abbiamo fatto con il Presidente del Comitato regionale della Basilicata dell'Inps Giuseppe Camardo. Presidente Camardo, l'attività di liquidazione della cassa integrazione in deroga a che punto è? Ormai l'Inps di Basilicata ha quasi saurito tutte le domande non possiamo dire che siamo a zero però gli ultimi flussi arrivano tra la giornata di oggi e massimo domani. Quindi praticamente diciamo che abbiamo quasi finito. Parlava anche di alcune ipotesi di pratiche che sono state respinte perché prive di requisiti soggettivi. Però ecco, quando parliamo di mancanza di requisiti il riferimento è soprattutto che non hanno titolo a quelli in deroga ma potevano e possono usufruire di quell'ordinaria. Ad oggi l'ente riesce e riuscirà a garantire la liquidità di tutte le richieste che verranno inoltrate. Certamente. Appena arriveranno le dovute correzioni saranno fatte immediatamente. Fondi dal Governo per la Basilicata la Regione potrà beneficiare di 13 milioni di euro sbloccati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per acquistare autobus del trasporto pubblico locale e regionale fino al 2024. Lo ha annunciato lo stesso Ministero spiegando che più di 5 milioni previsti nella ripartizione del fondo fino al 2021 saranno immediatamente spendibili altri 3 milioni e 6 erogati entro il 2024 e la restante quota. Negli anni successivi le spese potranno riguardare anche l'allestimento di protezioni e predisposizioni utili a contrastare l'epidemia. Non solo trasporti, la Basilicata potrà contare su 13 milioni e 8 di risorse preziose per colmare i divari nei diritti di cittadinanza. Lo ha detto il Ministro per il Sud Provenzano annunciando la ripartizione del Fondo per le Infrastrutture e Sociali. Ai 100 comuni della provincia di Potenza andranno 10 milioni e 1 ai 31 della provincia di Matera 3 milioni e 7. Provenzano ha sottolineato che lo sblocco dei fondi rappresenta un segnale di vicinanza alle amministrazioni locali soprattutto quelle medie e piccole che sono state in prima linea in queste settimane. A Matera più spazio davanti ai locali il Comune accorcia i tempi per la ripartenza. Più spazio ai Deor davanti ai locali di Matera l'Aggiunta Comunale ha approvato la delibera che prevede l'ampliamento gratuito su suolo pubblico degli spazi esterni a disposizione delle attività commerciali. Il provvedimento consente di estendere la zona in cui collocare tavolini e sedie per garantire il distanziamento sociale previsto dalle norme oltre che davanti e ai lati del locale anche laddove non fosse possibile oltre la strada e comunque nelle immediate vicinanze del locale. L'autorizzazione sarà concessa nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada del transito dei mezzi di soccorso sarà sufficiente inviare una pecca all'indirizzo comune.materachiocciolacert.ruparbasilicata.it per richiedere il rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico già autorizzato nel 2019 allegando un'autocertificazione oppure l'ampliamento di suolo pubblico allegando sempre l'autocertificazione e la planimetria degli spazi che si intendono occupare ed eventualmente il nulla osta da parte di altri esercenti nel caso si volessero utilizzare spazi antistanti ad altre attività. Per il vaglio delle istanze sarà necessario un tempo di tre giorni. Inoltre, quanto alle nuove richieste di occupazione di suolo pubblico è necessario allegare tutta la documentazione dunque l'autocertificazione, la planimetria e l'eventuale nulla osta e in sette giorni arriverà la risposta. L'obiettivo, spiega l'assessore al patrimonio Simona Orsi, è di restituire a tutti la possibilità di tornare a vivere la città negli spazi aperti in questa fase di ripartenza dopo la chiusura determinata dall'emergenza sanitaria. Il provvedimento è consultabile e scaricabile unitamente al modulo per l'autocertificazione dal sito web del Comune sotto la voce Aree e Tematiche, Imprese. 5G nei Paesi Bassi, il Tribunale dell'AIA nessun rischio per la salute. Lo Stato olandese può continuare con l'installazione delle antenne 5G. Lo ha deciso il Tribunale distrettuale dell'AIA in una causa intentata dal gruppo di azione Stop 5GNL, convinto che l'uso del 5G possa avere effetti negativi sulla salute citando una serie di studi. Secondo la Corte, riportano i media olandesi, non vi è motivo di ritenere che il governo stia ignorando la salute pubblica nel permettere questa rete che consentirà una maggiore capacità e connessioni più veloci per la comunicazione digitale mobile. Secondo il Tribunale, la politica dello Stato olandese è determinata sulla base della consulenza di esperti e delle linee guida di un istituto specializzato sugli effetti sulla salute e sull'ambiente delle cosiddette radiazioni non ionizzanti. Tale istituto ha concluso che sulla base delle attuali conoscenze scientifiche non vi sono rischi per la salute se l'esposizione ai campi elettromagnetici rimane al di sotto dei limiti prescritti e le misurazioni effettuate dall'Agenzia delle Telecomunicazioni dimostrano che l'esposizione al 5G è ben al di sotto di quei limiti. Sulla base di questo, la Corte olandese ha stabilito che il governo può continuare a rendere possibile l'introduzione del 5G nei Paesi Bassi. Intanto, in Basilicata, i comuni di Montescaglioso e Pomarico hanno deciso di applicare il principio di cautela sancito dall'Unione Europea in attesa che la comunità scientifica chiarisca i reali effetti sulla salute pubblica della nuova tecnologia 5G. Il Sinaco Montese è preciso in ogni caso che ad oggi nessuna richiesta interessa il suo comune. Università della Basilicata al via agli Open Day 2020 Smart Edition alle 15 in onda su TRM e lo speciale dedicato alla prima giornata di lavori. Intanto, ascoltiamo la rettrice Aurelia Sole. Sembra che sia andata molto bene, ci sono stati tanti collegamenti, tante condivisioni. Abbiamo presentato il Dipartimento di Scienze Umane e tutti i corsi di studio che vengono offerti da quel Dipartimento, ma anche tutti i servizi e le attività per gli studenti. L'attività di Smart Edition dell'Open Day proseguirà fino al 9 giugno. Io devo dire che in tutto questo periodo noi abbiamo messo online nelle dirette video tutte le iniziative in videoconferenza fatte dall'Ateneo in cui c'erano anche delle lezioni, delle revisioni nei laboratori, ma anche seminari con personaggi importanti del mondo della cultura e della scienza. Tutte queste sono state segnalate e continueranno ad essere segnalate sul nostro sito e sui nostri social. Sono sempre dell'idea che bisogna seguire le passioni. Io ho seguito questo metodo e l'ho consigliato anche ai miei figli. Perché seguire le passioni significa essere poi disposti anche di più a sopportare sacrifici, ad impegnarsi, perché significa che si fa una cosa alla quale si aspira, quindi si è disposti anche a superare molti ostacoli. Quindi in primo luogo la passione, poi direi anche in relazione alla scuola che uno ha fatto e quindi già alla prima scelta che ha fatto. C'è un nuovo progetto per scoprire il Parco della Murgia Materana. In sede di conferenza stampa virtuale l'ente Parco della Murgia Materana ha presentato il progetto sperimentale intitolato Il mio Parco alla scoperta del Parco della Murgia Materana. Un corso online promosso dallo stesso ente Parco. Rivolto in questa prima parte alla comunità materana e montese, come ha ricordato il presidente Michele Lamacchia, punta a formare i futuri ambasciatori del Parco che nel Tiriennio potranno conseguire diversi gradi di specializzazione. Il primo anno si potrà diventare ambasciatore del Parco con il secondo anno di frequenza tutore del Parco ed infine il terzo consentirà di raggiungere la qualifica di paladini del Parco. Il Parco della Murgia Materana rappresenta quindi per la città di Matera e per la comunità di Montescalio un grande giardino per la città per cui riteniamo importante sensibilizzare la conoscenza dei nostri diciamo concittadini. I cittadini interessati potranno dunque registrarsi gratuitamente alle frequenze con dieci video lezioni online e il supporto di altrettante guide escursionistiche che saranno al centro dei materiali multimediali clip di sintesi e grafica che saranno messi a disposizione anche grazie al supporto televisivo oltre ad un video documentario finale. Nelle intenzioni degli ideatori del progetto come ha spiegato Gigi Esposito quella di aprire anche al coinvolgimento dei territori contigui al Materano Montese e quindi alla Puglia Murciana. Nonostante questo periodo di stop l'ente parco della Murgia Materana ha cercato anche di dare un'attenzione a una categoria che sono quelle delle guide che sono penalizzate e quindi la realizzazione di un corso che era previsto all'inizio diciamo in campo e attraverso delle lezioni frontali per questa annualità viene spostato su piantaforme digitali e su canali televisivi digitali. Prosegue il nostro percorso di accompagnamento in occasione delle celebrazioni in onore di San Gerardo a Potenza il prossimo fine settimana anche se con un programma ridotto a causa dell'emergenza oggi il quarto appuntamento su TRM Network Abbiamo celebrato la messa a Crismale dove ha visto tutti i nostri sacerdoti qui presenti insieme col proprio Pesco a rinnovare i propri impegni sacerdotali e la benedizione degli oli che serviranno per amministrare alcuni sacramenti questo vuol dare anche un inizio a quanto è la festa soprattutto di San Gerardo che purtroppo ristretta soltanto alle funzioni religiose non potendo avere quel segno che ha avuto nel passato dia a tutti noi un discernimento saggio quel discernimento che da questa situazione con questa festa ridotta tra virgolette soltanto religioso dia più significato al cuore potentino che è un cuore che batte palpita come ha saputo sempre fare a uscire fuori e credere con speranza è un ananomolo per i festeggiamenti di San Gerardo che comunque simbolicamente ci saranno nel chiuso delle proprie case con una piccola manifestazione in linea con le restrizioni perché giustamente come dice lei ancora non siamo al liberi tutti ci sono delle regole da rispettare perché è vero che l'andamento epidemiologico in Basilicata va molto bene perché negli ultimi giorni i contagi sono stati a zero e speriamo che sia che continui così e questo è l'appello che bisogna fare molto importante stabilizzare questa situazione perché il pericolo di una ricaduta è dietro l'angolo si era ipotizzato qualcosa all'aperto sì ovviamente senza processione la processione ancora non è possibile concludere la giornata con una messa noi abbiamo già trattato in comitato questa questione e ci siamo espressi favorevolmente anche per la messa ci fermiamo qui grazie per averci seguito arrivederci a